Il ministro Patrizio Bianchi ha inaugurato il Museo Dante. Dopo l'anteprima nella giornata di venerdì, il taglio ufficiale del museo dedicato al Sommo Poeta è avvenuto sabato 15 maggio alla presenza delle autorità civili e religiose. Accompagnato dall'assessore regionale Mauro Felicori, dal sindaco Michele De Pascale e dall'assessore Elsa Signorino, dal presidente della Fondazione Casa di Risparmio di Ravenne Ernesto Giuseppe Alfieri e dal ministro provinciale della provincia italiana di Sant'Antonio di Padova, dei frati conventuali, frate Roberto Bandinelli, il ministro dell'istruzione ha ricordato l'importanza di Dante per i giovani e per la scuola oggi, l'importanza della lettura d'alta voce della Divina Commedia e la sua attualità in un'Italia oggi definita divisa dalle diseguaglianze. Beh, innanzitutto questo è un museo bellissimo, questo è un museo bellissimo perché è un museo di questo secolo, è un museo del ventunesimo secolo, è un museo del 2000 che parla di 700 anni fa, ma ci dà un'emozione grandissima, cioè quando tu entri vedi che sono tutti i sensi che si muovono e quindi ti dà l'idea di un museo che veramente, io credo che tutte le scuole d'Italia debbano venire a Ravenna per vedere questo museo, non soltanto per riapprezzare Dante, ma per riapprezzare anche proprio la bellezza della parola che dà emozione. Ha parlato di empatia nel suo discorso, crea empatia. Empatia di Dante e noi nei confronti di Dante, ma anche di tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questa idea, quasi la tocchi, tocchi non soltanto l'opera ma tocchi anche la storia, per questo è molto molto bello. In questo mondo che stiamo attraversando ci sentiamo tutti un pochino esuli e però bisogna essere molto attenti su questo perché l'esuli deve trovare dall'altra parte anche una capacità di dire questo è il mondo nuovo, quindi benissimo anche questo. Un Dante popolare anche? Un Dante popolare non solo in quel tempo ma anche nel nostro. Io credo che la cosa più interessante del museo di oggi che ti dimostra la totale attualità, attualità di un poeta che riesce non soltanto a parlare a tutti noi, ma ci spiega a noi i grandi temi della nostra epoca. Questa è la cosa assolutamente più straordinaria. Ci sono alcune citazioni che voi vedete nel museo, no? Questa storia dell'esule, la prima tecca che si vede è Dante Esule, il Paolo e Francesca come vi dicevo prima. Pensate quanto c'è bisogno di riscoprire proprio il significato dell'amore oggi. Dante e Ulisse, pensate noi che andiamo a dire la società della conoscenza. In realtà quanto poco di conoscenza abbiamo è invece semplicemente di reiterazione dell'esistente. Dante e Ugolino, quindi anche le difficoltà nei rapporti fra generazioni. Io trovo che sia un museo straordinariamente stimolante perché parla di oggi e quindi popolare oggi. popolare, però pieno nel senso più nel termine, cioè di un popolo fatto di persone vere, vive, uno alla volta, che hanno bisogno e voglia anche poi di scoprire.